Strategia e-commerce, il podcast con novità, commenti e interviste sul mondo e-commerce italiano. Come incrementare la customer retention. Ciao a tutti, sono Emilio Lodegiani e questo è un nuovo episodio di Strategia e-commerce. Allora, la customer retention l'abbiamo già vista in episodio precedente, parliamo di quella che possiamo dire anche in italiano la fidelizzazione. Quindi, come far sì che il cliente torni ad acquistare nel nostro negozio dopo il primo acquisto. Allora, vediamo un attimo che cosa possiamo fare per fare in modo che il cliente torni. Un obiettivo molto importante del negozio è che il cliente torni perché poi da questo dipenderà una buona parte del fatturato è approssimativamente dal 40 al 60% del fatturato di un negozio avviato e dato dai clienti che tornano. Oltretutto, ho fatto fatica per far arrivare da me un cliente, a questo punto sfruttiamo questa fatica con più ordini dello stesso cliente. Allora, come facciamo a fare in modo che i clienti torni, quindi ad aumentare la retention, la ritenzione dei clienti da parte del negozio. Allora, un modo, ad esempio, è utilizzare gli account cliente. Gli account cliente sono, è quando il cliente fa login nel negozio e vede i suoi ordini, vede le sue cose. Si sente in qualche modo già parte del negozio, si sente di più cliente se ha un suo pannello di gestione. Però, d'altro canto, c'è il fatto che all'inizio, tante volte, se io compro per la prima volta in un negozio, magari non sono lì a pensare, no, io qui mi voglio fidelizzare, questo sarà il mio negozio per la vita. No, io velocemente voglio fare l'ordine perché voglio quell'oggetto. Quindi, da un lato è bello avere i clienti che creano un account, dall'altro potrebbe diminuire il tasso di conversione del primo acquisto. Cosa vuol dire? Vuol dire che se il cliente è costretto a fare un lungo percorso, ad esempio creando un account e dando dei dati prima di fare l'acquisto potrebbe dire, vabbè, aspetta un attimo, adesso non ho tempo, l'acquisto lo farò un'altra volta, poi non lo fa più. E quindi io voglio che lui acquisti subito. Allora, magari potrei avere una strategia ibrida, ad esempio, gli permetto di acquistare subito con il checkout, con Paypal, in un click, o pagando direttamente. Dopo, che ha già acquistato, a quel punto gli dico, ok, dai, crea il mio account, oppure creo in automatico un account e gli mando una password temporanea, provvisoria. Quello gli può modificare. Quindi in questo modo riesco a salvare caprecavoli. Lui avrà comunque un account e alcuni sistemi, addirittura in questo senso, alcuni marketplace tipicamente, vanno a proporre, ad esempio, Dalani faceva così, se non sbaglio, credo che lo faccio ancora, ti dicono, registrati subito, non ti faccio vedere il negozio. Quindi usano molto questa leva dell'account cliente. Anche Amazon, ad esempio, lo usa, non puoi acquistare su Amazon senza un account cliente, se non erro, se sbaglio, scrivetemi una nota e faremo una rettifica. Però, credo, sono quasi sicuro che Amazon non permetta l'account e il checkout ospite, proprio perché l'account gli serve per retention e per fidelizzare. Bene, un'altra cosa interessante, un'altra leva è quella di migliorare il servizio clienti, o comunque di avere un ottimo servizio clienti. Perché il cliente si fidelizza, rimane, diventa fedele a un negozio e quindi genera una retention per il negozio. Se lui si fida del negozio e se lo crede, deve essere un negozio che dà valore al click, che gli dà valore, che è un'ottima realtà. Quindi lo vedete voi stessi, quando andate ad acquistare e entrate in un posto dove sono gentili, avete un problema, vi aiutano subito, ve lo risolvono facilmente, vi sentite curati, vi sentite trattati bene e siete più propensi a tornare ad acquistare lì. Quindi il servizio clienti, sia in fase di pre-vendita, dove quindi ho bisogno di un consiglio, sia in fase di post-vendita, dove quindi ho bisogno della soluzione di un problema, tipicamente, è molto utile perché io vedrò sia prima che dopo che sono seguito e quindi avrò più fiducia nel tornare la prossima volta. Ci sono poi delle, chiaramente il servizio clienti parla direttamente col cliente, come in tutte le fasi del sistema e-commerce, è giusto che vada ad allinearsi a quello che il cliente vuole. Quindi se il cliente vuole scrivervi per chat, dovete avere una chat, se vi vuole scrivere su Facebook, dovete usare il messenger del servizio clienti, per esempio usando Zendesk che si collega direttamente al messenger e così via. Però voi dovete essere facili da raggiungere e dare un ottimo servizio. Una qualcosa che funziona, che molti fanno e che può essere fatto anche nel servizio cliente e quindi è provocare stupore. Ad esempio era interessante una frase di Zapatos, che è un negozio molto attivo soprattutto nel continente americano per quanto riguarda la vendita di scarpe. Zapatos sulle scarpe in spagnolo. Zapatos aveva uno dei valori, dei valori aziendali. Il valore numero uno era deliver wow through service. Perdonatemi l'inglese, comunque vuol dire consegnare, far arrivare stupore attraverso il proprio servizio. Quindi loro volevano comunque stupire i clienti dando un servizio eccezionale, un servizio che stupisse. La gente non si aspettava di avere così tanto e questo andava a fidelizzarli enormemente. Quindi è chiaro che lo stupore può essere fatto in tanti modi, può essere fatto con un'azione positiva. Avete mai chiamato il servizio clienti Amazon per lamentarvi di qualcosa? Tipicamente vi dicono, dopo che è stato già risolto il problema, è già tutto a posto, alla fine vi dicono, guarda, visto che hai avuto un problema, ti regalo tre mesi di servizio Prime. Questo è un di più, tu non te lo aspetti a quel punto perché il problema è già stato risolto. Non te lo dicono all'inizio per rabbonirti, te lo dicono dopo e questo proprio per stupirti e darti una cosa positiva che ti fidelizzi un sacco al servizio. Poi un'altra cosa che può essere utile per aumentare la retention è il programma fedeltà. Quindi se in generale c'è un modo per fidelizzare il cliente è appunto tramite un programma fedeltà, fedeltà, fedelizzazione. Cosa vuol dire questo? Ci sono diversi modi, ad esempio i punti, quindi ho dei punti per cui comincio ad acquisire punti in base agli ordini, sono stimolato a fare ordini ripetuti in un negozio perché ho sempre più punti per poi arrivare a un regalo, piuttosto che ho dei livelli successivi di cliente, cioè divento un cliente Gold, Platinum, eccetera, e posso accedere a determinate promozioni riservate a quel tipo di cliente. Vedete Amazon usa il servizio Prime in questo scopo, tutti hanno il Prime, non so quanti siano i clienti Amazon senza il Prime, ci sono senz'altro ma sono una minoranza. Tutti hanno il Prime, pure tutti si sentono speciali, sono bravissimi loro in questo. Quindi implementare un programma fedeltà è una cosa importante. Può essere anche, non solo ho visto delle realtà in cui non c'è un programma fedeltà magari strutturato con delle tessere o quant'altro, ma semplicemente viene mandata una comunicazione al cliente, dice guarda tu sei un cliente di un certo tipo, ti diamo questo particolare sconto. In generale questo comunque va a creare un'aspettativa dove io rimango cliente perché so che avrò dei benefici nel farlo. Poi un altro strumento ottimo per migliorare la retention è utilizzare le email di marketing. Le email di marketing sono le dem cosiddette, direct email marketing, sono comunque campagne che si mandano con MailChimp o con mille altri sistemi di invio email e servono per fare diverse cose. Uno per le campagne promozionali, le campagne commerciali, supponi che io abbia, non so, un'operazione commerciale per il Black Friday dove faccio determinati sconti, con la mail avviso prima, poi dopo ti dico guarda che c'è in corso questa cosa, attenzione che sta finendo e così via. Oppure il Natale, fate i regali di Natale, guarda è aperto lo sconto per il Natale su quelle categorie, e tutte queste informazioni arrivano ai clienti tramite l'email e queste sono poi quelle che triggarano gli acquisti. Quindi diciamo è importante fare in modo che il cliente si iscriva, le mail promozionali non le puoi mandare se il cliente non ti ha detto ok, però posso stimolare il cliente a iscriversi in mille modi, deve essere sua la scelta e poi vai con queste mail, il negozio va a inviare, a veicolare le promozioni. In questo mantiene un contatto caldo tra il negozio e il cliente e permette di migliorare il suo rapporto con noi e anche il fatto che rifaccia ordini presso il negozio. Un'altra possibilità, sempre per le mail, non sono le mail di marketing ma sono magari quelle di follow up, sono sempre di marketing, però sono intese in un altro modo. Le mail di follow up sono anche dette, allora ci sono le mail transazionali che sono quelle legate alla transazione, grazie dell'acquisto, ecco la tua fattura, ecco lo storico del tuo ordine. C'è una via di mezzo tra la mail transazionale e quella di marketing che sono quelle di follow up, dove io ad esempio una settimana dopo ti dico hai ricevuto l'oggetto, è tutto a posto, vuoi fare una recensione, oppure hai comprato pannolini, sai che dureranno un mese, ti servono altri pannolini, posso darti questa informazione, questa cosa, però il follow up è triggerato da un acquisto, io so che tu hai fatto un acquisto e quindi tot giorni dopo faccio una cosa specifica, automatica. Questo è uno delle branche della marketing automation. E quindi anche quello può essere utile, utile perché sostanzialmente vado ad allinearmi a un bisogno specifico che io conosco di quel cliente, bisogno che conosco oppure cosa che conosco perché so che è stato fatto un ordine, quindi ho un dato, dal dato parto e vado ad agganciarmi a qualcosa. È importante nei messaggi, diciamo, anche la personalizzazione, questa è un'altra cosa che triggerà retention, che triggerà fidelizzazione. Io devo sentirmi un cliente speciale, devo in generale sentire che il brand o il negozio fa le cose per me, mi sento a mio agio se mi viene dato esattamente quello che mi serve. Primo perché non perdo tempo, loro sanno già cosa mi serve, perfetto. Secondo perché mi sento un cliente speciale, sento che si curano di me, quindi meglio. Allora, ad esempio, ci sono poi tanti modi, diciamo, per studiare il proprio cliente, dare il messaggio giusto alla persona giusta. Una delle cose che secondo me importa, sono utili, è le statistiche, i sondaggi, diciamo. Cioè io devo avere un feedback dai clienti. Moltissimi negozi mancano ad avere un feedback costante dai clienti. Si può ottenere questo feedback analizzando le richieste del servizio clienti. Per questo è importante avere un sistema che gestisce il servizio clienti, dove il manager può andare a capire cosa sta avvenendo, per farsi delle idee. Però in generale anche io posso fare domande al cliente. In qualche modo, è chiaro che il mega sondagione da compilare non piace, magari la gente non lo compila o li disturbo. Però devo trovare dei modi carini, modi carini per avere informazioni dai clienti, piano piano. Se voglio rimanere sul sondaggio, posso fare un piccolo sondaggio di poche domande, dicendo, guarda, c'è un sondaggio di 5 minuti e per chi lo compila, per ringraziarvi, vi regaliamo la cosa X o vi diamo il coupon Y. Quindi si può fare una cosa del genere, perché mi serve per capire realmente i bisogni dei clienti, che nel tempo cambiano, ed andare quindi a dare un servizio custom personalizzato su di loro e per questo migliorare la retention, sia loro che dei futuri clienti. La cosa più semplice, in realtà, per migliorare la retention, che in passato ho visto fare spesso, dare lo sconto singolo per il primo acquisto. Cioè io so che tu, voglio fare in modo che tu facci uno secondo acquisto, e poi forse un terzo, ma il gradino maggiore probabilmente è tra il primo e il secondo. Allora io, diciamo, ammorbidisco questo gradino con un regalo, con uno sconto specifico. Cioè al primo ordine ti faccio uno sconto di benvenuto, un regalo di benvenuto, qualcosa di benvenuto, che faccia in modo di trasformare il primo acquisto in un secondo acquisto. Do un coupon, ti do qualcosa. Funziona se c'è la possibilità di avere un secondo acquisto a breve, perché se il prossimo acquisto me lo aspetto fra sei mesi, quel coupon si perderà. Però, insomma, è uno degli elementi importanti. In ogni caso, se mi aspetto sia un negozio in cui può essere fatto tipicamente un acquisto al mese, io comunque manderò uno sconto per il secondo acquisto, manderò un regalo, manderò qualcosa anche magari alcuni giorni dopo per ricordare che puoi fare un secondo acquisto in maniera avvantaggiata, con un vantaggio, con un regalo, eccetera. Ecco, questi che abbiamo visto sono un po' di modi che possono essere utili per aumentare la customer retention e quindi la fidelizzazione del negozio, che è l'obiettivo poi di molti negozi, perché un negozio avviato trae una buona parte del budget, magari la metà da clienti ripetuti. E quindi, diciamo, è bene lavorare in questo senso, per farlo correttamente si devono fare anche investimenti e quindi è importante sapere qual è il valore dei clienti su cui investo per farli tornare e qui apriamo il tema del customer value, il customer lifetime value e abbiamo visto in altri podcast come...